Credo che la giornata di oggi sia stata un punto, non di partezza neanche di arrivo, ma un percorso fondamentale nella costruzione della strategia delle Green Community. Trovarsi, confrontarsi, immaginare, pensare, progettare e poi decidere che cosa si può mettere a terra diventa un percorso fondamentale, non per le tre aree pilota, che sono fondamentali, non per le tre che saranno individuate sul bando, ma per tutte le aree montane del Paese. Il futuro delle nostre aree montane sta nelle Green Community e oggi abbiamo messo un punto importante nella riflessione di questo percorso.